Signor Presidente, grazie di averci accordato questa intervista. Qual è l'obiettivo reale della controoffensiva che l'esercito ucraino sta facendo partire in questi giorni? Il nostro obiettivo è vincere questa guerra, liberare i nostri territori, avere la pace. In generale gli ucraini, come nessun altro al mondo, vogliono la pace. Ma la guerra finirà solo quando i russi lasceranno i nostri territori e smetteranno di sparare. È un obiettivo realistico, cioè credo davvero che da un punto di vista militare possiate costringere i russi ad andarsene completamente? Sì, noi in questo tempo, è più di un anno, abbiamo liberato circa il 50% dei territori che i russi hanno occupato durante questi 14 mesi. La nostra società, le nostre forze armate, vogliono liberare tutti i nostri territori, nei nostri confini del 91. Sono arrivate quasi tutte le armi che aspettavate dall'Occidente. Noi stiamo completando i nostri preparativi per la controoffensiva. Noi siamo uniti come mai prima con i nostri partner. E sono convinto che noi, per questa controoffensiva, saremo del tutto pronti. Già adesso, la società e le forze armate moralmente sono pronte, per questa controoffensiva, per la liberazione dei nostri territori. E' vero che avrete presto anche degli aerei da combattimento? Oggi noi stiamo lavorando per avere tutte le armi necessarie per la controoffensiva. Ovviamente noi chiediamo agli aerei militari, i missili di più lunga agittata, per liberare i nostri territori. E' molto importante che noi stiamo chiedendo le armi, proprio per liberare i nostri territori, non per attaccare i territori dei nostri vicini. E' una cosa molto importante da sottolineare. Certo, sappiamo bene che voi avete chiesto anche gli aeroplani. La domanda è, stanno per arrivare? Noi stiamo conducendo i negoziati con i nostri partner. Il primo passo per ottenere questi aerei è addestrare i nostri piloti. E oggi stiamo parlando del fatto che noi stiamo già ricevendo gli aerei del tipo sovietico dai nostri partner. E' una cosa importante. Questo ci aiuta a chiudere il cielo sopra l'Ucraina, rende più sicura la nostra controoffensiva, difende le nostre città. Ma noi stiamo chiedendo anche gli aerei moderni, degli standard NATO, F-15 o F-16. E noi capiamo che per questo devono essere addestrati i piloti. E' un processo lungo, può durare anche sei mesi, ma noi ci stiamo lavorando. Allora, sia la NATO che l'Occidente hanno detto che aiuteranno l'Ucraina fino all'ultimo momento, insomma, fino alla liberazione completa. Ma lei non crede che a un certo punto l'Occidente vi chiederà di trattare? Noi siamo convinti che i nostri partner saranno al nostro fianco, fino alla nostra vittoria, alla nostra vittoria comune. Per la vittoria noi abbiamo bisogno di quattro cose. Le armi, e noi le stiamo avendo da parte dei nostri partner. Le sanzioni, la pressione verso la Russia, per indebolire i loro budget, per finanziare questa guerra sanguinosa. Abbiamo bisogno delle finanze, il sostegno finanziario per mantenere la nostra stabilità macrofinanziaria. E stiamo avendo questo sostegno dagli Stati Uniti, dalle decisioni dell'Unione Europea. E ovviamente abbiamo bisogno di implementare la formula di pace del presidente Zelensky. È molto semplice come formula, è molto comprensibile. I russi devono smettere con il ricatto nucleare il ricatto alimentare. Aprire il corridoio attraverso il Mar Nero per il grano ucraino. Devono smettere di fare il ricatto energetico e non rovinare più la nostra infrastruttura energetica. Devono restituire gli ucraini imprigionati. Devono tornare a casa 20.000 bambini deportati, che sono quelli che noi sappiamo, di cui abbiamo accertato il cognome. Sono stati rapiti dalla Russia e adesso si trovano in 43 lager russi, dove cercano di cambiare la loro mentalità. Quindi i russi devono lasciare il territorio ucraino, pagare le riparazioni. La giustizia deve essere ripristinata e loro devono essere puniti. Solo allora nel continente europeo si stabilirà la pace e sarà duratura. In caso diverso, se anche una sola parte dello Stato ucraino nel continente europeo rimarrà occupata, questo non porterà a una pace duratura. E le guerre in Europa si ripeteranno, purtroppo. E non solo in Ucraina. La Russia non si fermerà in Ucraina, se non sarà fermata. E se non faremo vedere che la nostra risposta è unita. Io sono convinto che tutti i partner ci sosterranno nei valori di democrazia, della libertà, i valori del mondo civilizzato, per il quale l'Ucraina sta lottando. E loro lo faranno per tutto il tempo necessario. Lei ritiene davvero possibile che Putin sganci la bomba atomica tattica se si trovasse in difficoltà? Noi sottolineiamo che i partner devono implementare le sanzioni molto pesanti contro l'ambito nucleare della Russia, proprio per fermare questo ricatto nucleare. Oggi, il 26 aprile, sono 37 anni dalla catastrofe di Chernobyl. E la Russia ha occupato la centrale nucleare di Zaporizia, che è equivalente a 6 Chernobyl. E sta continuando a ricattare l'Europa, con la minaccia nucleare, non solo attraverso le armi, ma anche attraverso la centrale nucleare occupata. E' molto importante creare una certa pressione internazionale, affinché la Russia non abbia più intenzione di attuare questo ricatto nucleare contro tutti. Noi siamo molto seri, noi le percepiamo seriamente queste minacce da parte della Russia. Ma questo comunque non ci fermerà nella nostra lotta per l'indipendenza e la libertà. E noi siamo convinti che i partner saranno altrettanto convinti in questo sostegno. Noi ovviamente speriamo di no, ma quale sarebbe la reazione all'Ucraina se davvero Putin sganciasse la bomba? Come reagireste? Se succede cosa? Se lui sgancia la bomba, la bomba atomica. Questo non cambierà i nostri piani di lottare per la nostra indipendenza. Noi continueremo a lottare fino alla liberazione completa dei territori ucraini, qualsiasi cosa succeda. E l'America, l'Occidente, come reagirebbero ad una situazione di questo genere? E' una questione che deve essere rivolta verso i nostri partner. Io sono convinto che se uno Stato con deterrente nucleare usa l'arma nucleare per un attacco terroristico, questo Stato deve essere riconosciuto come Stato terroristico. Con i terroristi non ci si negozia. Come si può porre fine a questa guerra? La formula di pace del presidente Zelensky, questa è la strada verso la fine di questa guerra. La Russia deve smettere di sparare, lasciare tutti i territori ucraini. L'Ucraina deve avere le garanzie di sicurezza. E dopo questo la Russia deve pagare le riparazioni, i danni che ha causato. Dopo sarà firmata la pace. E la formula della pace è soltanto quella dettata da Zelensky, sostanzialmente, cioè le condizioni di Zelensky. Quelle cinesi non vi piacciono tanto? Il mondo moderno non può permettere a uno Stato di annettere con l'aggressione i territori e non essere punito. Non avere alcuna risposta da parte del mondo civilizzato, da parte dell'Europa. E' molto importante non permettere che questo succeda, perché se no, sarà un precedente che aprirà la strada verso guerre ancora più devastanti. E l'Ucraina non sarà l'ultima in questa storia. Ci saranno altri paesi. Le ambizioni della Russia sono molto grandi. La Russia non lo nasconde. Vuole ripristinare l'Unione Sovietica. Vuole l'influenza sull'Europa, sulla Germania, sulla Polonia. E io sono convinto che loro sono molto seri in queste affermazioni. Perciò l'unica strada, e noi non ne vediamo un'altra, è proprio implementare la formula di pace del Presidente ucraino. L'Ucraina deve essere libera, sovrana nella famiglia dei paesi europei, membro della Nato. Questo porterà la pace e duratura a tutta l'Europa. Oggi, intervenendo in collegamento con la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, il Presidente Zelensky ha avuto parole molto generose nei confronti del Primo Ministro Meloni e di tutti gli italiani. Ma l'Italia, concretamente, come può contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina? Io vorrei dare sostegno a queste parole del Presidente. Ringraziare molto il popolo italiano. Ringraziare il governo italiano. E personalmente la signora Premier. Per questa posizione è molto convinta, molto logica, per sostegno verso l'Ucraina, nel suo cammino verso la libertà. L'Italia sostiene l'Ucraina in tutti gli ambiti, noi diciamo a 360 gradi, con tutti i tipi di aiuti. Ed è molto caloroso l'approccio verso i profughi, quei rifugiati che sono andati in Italia. Sono soprattutto donne e bambini. Oggi questo ha creato un legame verso le nostre famiglie. Io sono convinto che anche questo contribuirà ad avvicinare i due paesi. Sono convinto che l'Ucraina, per sostegno dell'Italia, diventerà membro dell'Unione Europea. E noi, la società ucraina, conosciamo e apprezziamo moltissimo il sostegno italiano, in tutti gli ambiti, sia quello militare, sia quello delle sanzioni, che quello delle finanze. Oggi abbiamo parlato del futuro, nostro comune futuro. Uno dei progetti più grandi dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa, di cui il valore oggi è stimato in più di 400 miliardi di dollari. Io sono convinto che dopo la liberazione di tutti i nostri territori, questa somma si raddoppierà. E io invito il business italiano, già oggi, a vedere l'Ucraina e portare il loro know-how, a portare la loro esperienza, le loro tecnologie in Ucraina. Io sono stato già tre volte in Ucraina, spero di tornare la quarta con l'Ucraina libera. Io la invito in Ucraina, invito tutti i nostri amici italiani in Ucraina. L'Ucraina è un paese molto ospitale, molto tollerante. L'Ucraina e l'Italia sono dei veri amici, non solo partner. Noi veramente, oggi, abbiamo i legami non solo istituzionali, ma anche tra le regioni. Ad esempio, oggi, accanto ai memorandum politici, è stata firmata una serie di memorandum con le città. Poi ci sono legami tra le persone, tra gli italiani e gli ucraini. E io sono convinto che questi saranno sempre di più. Io vi ringrazio tantissimo e auguro la pace e il benessere dell'Ucraina. Bene, adesso vedremo con Paola Ferrazzoli e Andrea Conte il bilaterale che c'è stato oggi Italia-Ucraina. Intanto, signor Primo Ministro, grazie, grazie davvero per averci stato con noi. Grazie veramente a tanti cari auguri di buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.